Alla porziuncola arriva il Papa e otto secoli di storia sembrano dissolversi, perché come ottocento anni prima, nel bellissimo scarno tempietto del perdono, c'è Francesco che si mette in preghiera, in un silenzio via via più assorto, che attutisce voci e contorno di folla. Anche se le migliaia di persone radunate fuori e dentro Santa Maria degli Angeli, la festa all'arrivo e i saluti entrando in chiesa, raccontano di un momento e di una presenza che di privato ha solo la stanza del cuore, quella dove il Papa si raccoglie a lungo. L'occasione il 4 agosto è quella dell'ottavo centenario del perdono concesso da Papa Onorio III al poverello di Assisi, una gemma a cui il giubileo della misericordia sembra il perfetto castone e di fianco alle pietre che parlano di quella antica indulgenza, del desiderio di San Francesco di mandare tutti in paradiso, il Papa ripete che la strada maestra per arrivarvi è sempre quella del perdono. È difficile perdonare, eh? Quanto costa a noi perdonare gli altri? Pensiamoci un po'. E qui alla porzioncula tutto parla di perdono. Che grande regalo ci ha fatto il Signore insegnandoci a perdonare, o almeno avere la voglia di perdonare, per farci toccare con mano la misericordia del Padre. La parabola del Vangelo, letta in precedenza, è quella dei due debitori, del primo, che riceve dal padrone il condono per una somma ingente e che poco dopo si accanisce sull'altro in modo spietato per pochi spiccioli. Noi siamo così, afferma il Papa. Quando siamo noi in debito con gli altri pretendiamo la misericordia, quando invece siamo in credito invochiamo la giustizia. Ma Dio assicura una volta di più è paziente e prova tenerezza verso chi gli chiede perdono, un perdono che, come insegna Gesù nel Padre nostro, va sempre offerto agli altri. Offrire la testimonianza della misericordia nel mondo di oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi. Il mondo ha bisogno di perdono. Troppe persone vivono rinchiuse nel rancore e covano odio perché incapaci di perdono, rovinando la vita propria e altrui piuttosto che trovare la gioia della serenità e della pace. La festa del perdono va celebrata degnamente e Papa Francesco cambia, come ama spesso fare, il previsto con l'imprevisto, che in questo caso lo porta ad amministrare il sacramento della riconciliazione a 19 persone, tra cui 4 scout, 2 preti, un frate francescano, un'anziana disabile e diversi volontari. Francesco, che invita a fare altrettanto i vescovi e i religiosi presenti, si trattiene con i penitenti circa un'ora. Poi, uscendo sulla piazza gremita, improvvisa un saluto, sintesi delle sue quattro ore ad assisi alla scuola del perdono di Francesco. Vi ringrazio questa voglia di essere vicino e anche, non dimenticatevi, sempre perdonare. Perdonare da cuore, se si può avvicinarsi, io avvicinarsi all'altro, ma perdonare, perché se noi perdoniamo, il Signore ci perdona e tutti noi abbiamo bisogno di perdono.